Per la quinta volta sono venuti a solo PAC e io gli prometto particolarmente alla segnalatrice Sabrina Ricciardi che è l'assillo continuamente che non gli darò più fastidio, stop, poi Daniela mi ha dato pure il messaggio a Daniela, Sabrina a Daniela, quindi Angela si è persa un po' per la strada, l'onorevole di Amaro, però stiamo cercando di recuperarla, quindi iniziamo con i saluti, quindi un saluto dei nostri senatori, agli amici, poi ci sarà un rinfresco offerto da noi attivisti, giusto per stare un po' insieme, e saluteranno gli amici, la parola subito a Sabrina, la mia portavoce particolare.